ok banda si prosegue con final final step zero che è in pleno numero 14 si continua con la nostra missione che non è corta come missione ragazzi non è non si poteva fare tutto in un unico gameplay era impossibile quindi si deve proseguire con un altro gameplay e forse ce ne vorrà anche un altro ancora comunque dai che sono forte sono forte vabbè non subire danni non posso accettarla con la missione lì speciale perché ho paura poi di non riuscire vai missione terminata non missione terminata cioè un piccolo pezzo di missione terminata quindi allora da qui sono andato lì ok bisogna seguire la mappa per filo e per segno non è semplice come gioco ragazzi è molto ostico quindi dai budino non fare così non fare così muori ok vediamo un po con questo gameplay numero 14 come si prosegue ok vai così no 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 e vai e vai allora da che parte bisogna andare adesso adesso vediamo così ok no 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 non gira più ok e vai così perfetto perfetto Ok No, sono stato avvelenato ragazzi Sono stato avvelenato Allora, oggetti Usa Elisir Ok C'è ancora qualcuno da affrontare qui C'è ancora qualcuno Eh sì, eccoli i budini maledetti Eccoli qui ragazzi, eccoli qui Oh, ci penso io Ci penso io qui E vai, fuori uno Fuori uno Ok E vai Allora, allora, allora Vediamo un po' la strada Dov'è La strada principale è di là Però La mappa è bella A girarla tutta, no? Quindi Perché magari poi c'è qualche oggetto da raccogliere Se non si va in determinate zone Uh, questo budino qui Ma cosa vuoi? Allora, sei di livello 17 Io sono 27 Quindi Ragazzi, voi fate come Brado Che fa molto grinding Molto farming Non avrete problemi Ok Vediamo un po', sì Sarà questa la strada? Sarà questa? Eh sì, ecco qui Questa è un'altra zona E poi Eh, poi si va Ehi là No, no Un attimo Un attimo ragazzi Di che livello è quello lì? Quella creatura che ho visto passare Vabbè, si può affrontare Si può affrontare Sì, sì Eh, vai così Vai così Ottimo Ottimo diablo Vai così alla grande Vediamo qui se si può andare No, qui non si può andare Neanche qui Ok, ragazzi Possiamo tornare dietro Per proseguire Per la strada principale Ok Vediamo un po' Sì, ora è questa Ora è questa Eh, vai così Vai così Grande diablo Allora Ora bisogna salire Vediamo un po' Vediamo un po' Si fa molto interessante Il gioco Ok Ok Ma da che parte vado? Ah, forse ho capito Forse anche qui Bisogna andare giù Eh sì Eh sì Eh, che bello ragazzi Che bello Belle battaglie Sono delle belle battaglie Sono fortunato che ho comprato Questo mazzo di carte Molto Offensivo Ho pagato 35.000 Come Ricorderete Però Ne è valsa la pena Da come si vede Ne è valsa la pena Eh vai Vieni qui Budino Vieni qui Ottimo Così Ottimo Oh no Sono tre Sono solo tre qui Ok Vai Così Ricordo che con R1 È quadrato Raccogliete gli oggetti Da nemici Uccisi Non tutti Vi daranno qualcosa Ma Alcuni Sì Ragazzi Alcuni Sì Quindi Oh Oh Ma dai Sono forte Sono fortissimo Sono troppo Forte Per voi Dai Lasciate Perder La battaglia Lasciate Perdere Non si può Battere Brato Non si può Non si può Vai Piastrina Di riconoscimento E si va avanti Con la nostra Missione Ecco qui Nuovi mostri Eh sì Eh sì No no Dove vai Dove vai Dove vai Sono fortissimo Ragazzi Sono fortissimo Sono super potenziato Ecco cosa significa Fare farming Molto farming Oh oh Altra stanza Eh sì Altra stanza Eh vai Eh vai Ragazzi Gioco Fantastico Fantastico Era ora Che arrivava Da noi Era ora Oh Resisti Due minuti Vediamo un po' Dai che sono Troppo forte Per voi Sono troppo Forte La potenza La potenza Brata Ragazzi Vai raccolto Un po' D'energy Ottimo Ottimo Così Ottimo Un altro Dei miei personaggi È salito Di livello Alla grande Alla grande Vai Così Ora Ora Mi sto Casando Mi Caso A fare Questa Missione Quindi Ora Qui Sarà L'ultima Stanza Non So Non So Veramente Ragazzi Non So Veramente Ok 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 Vabbè Sconfiggi Due nemici Si può fare Ne ho sconfitti Molto di più Quindi Molti di più Allora Vai Battaglia Terminata E si Prosegue Allora Vediamo un po' Ah 3 su 3 Qui è quasi Tutto dritto Per dritto Vedremo Vai Di livello 17 Ma dove andate Siete di livello 17 Cici Dove andate E vai Così Vai Vai Sono forte Sono troppo Più forte Sono più potenziato Di voi Dai Oh Vabbè Lì mi sono fatto male Da solo Almeno ho dato Una speranza Anche a loro Per fargli credere Che Potevano Forse Vincere Con scarsi Risultati Sì Vai Raccolgo Tutto Ragazzi Raccolgo Tutto Vediamo un po' Sì La strada È questa Settore 27 Dai Dai Così Vai Ciao Vai Resisti Due minuti Sì Posso Resistere Vabbè Li affronto Senza problemi Ci vuole un po' Di pazienza Su questi giochi Tutto qui E vai E vai Perquisisco Forse così Vabbè Possiamo andare Dai Possiamo andare Uh Siamo quasi al termine Siamo quasi al termine Della missione E beh E beh Dai Dai Su Siete di livello 17 Dove andate Dove andate Dove andate Sono di livello 27 Io Dai E vai E vai Così Molto frenetico Come gioco Ragazzi Molto frenetico Sì No Aiuto Un po' di energia Grazie Grazie Dai Dai Così Dai Non ce n'è Per nessuno Non ce n'è Per nessuno Vince Vince brado E basta Vince brado Vai Tutto di livello 17 Qui Non sento Il peso Non sento il peso Ragazzi Cioè Sto troppo Sto troppo avanti Sto troppo avanti Sono super potenziato Oh 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 Ma che è l'ultima zona qui Vai Stiamo nel bel mezzo Della missione Della parte finale Non so Aiuto Aiuto Mi date una mano Dai Ok E vai E vai Devo seccarlo Ragazzi Vai Soldati imperiali Eliminali Eliminali Dove sono? Dove sono? Sono troppo potenziato Ragazzi Sono troppo Potenziato Neanche Ci butto l'esper Guarda Vi dico la verità Assurdo 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 Questo Dai Grande Livello 28 Si sale Al livello 28 Ragazzi Missione Compiuta Ma vieni Così E' stata una bella missione E' stata una bella missione Nel prossimo gameplay Cerco di farvi vedere l'esper Certo che salvo i progressi di gioco Certo Ci mancherebbe che non salvo i progressi Ok 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 Allora ragazzi Il gameplay numero 14 Di Final Fantasy Type 0 Si conclude qui Spero che vi siate divertiti E ci sentiremo con i prossimi gameplay Ciao a tutti fenomeni Back and roll Oh 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 Oh